mi sto preparando una cassettina un contenitore e vi faccio capire meglio quello che sarà vorrei inserirlo qua nella bandiera della combinata in modo che tutti quanti gli accessori le chiavi di servizio stiano in unico posto riparati so sempre dove andarli a prendere e non vanno in giro e non me li perdo adesso dato che questa scatoletta accanto alla sega si riempirà di polvere e segatura in una settimana quindi ho pensato purtroppo in un secondo momento perché ormai già l'ho chiusa l'ho incollata e tutto quanto ho pensato di metterci sopra un pannellino in modo da chiuderla metterò anche uno di questi sistemi per l'apertura in modo che potremmo aprirla semplicemente spingendo e tutto sarà bello pulito e sistemato all'interno per fare questo tipo di lavoro come vi dicevo dato che ormai l'ho già chiusa incollata vado ad utilizzare una fresa con cuscinetto una fresa gradino con cuscinetto e ve la faccio vedere anche meglio che è questa qua questa fresa che dato che la vendiamo nel nostro fantastico sito ecommerce www.demicrolab.shop vi dico che è contenuta in un kit che è questo qua e nel kit ci sono altri tre cuscinetti quindi sono quattro in totale compreso quello che è già montato che vi permettono di poter andare a coprire tutta una serie di larghezze perché sostituendo il cuscinetto ok andiamo ad aumentare o diminuire la distanza che c'è tra il bordo del tagliente e il cuscinetto stesso quindi questa qui avremo una distanza di 8 mm poi 9 mm e mezzo 11 mm e 12.7 mm impostiamo la profondità della fresatura ora primo step dobbiamo portare questa parte del tagliente questa qui ok allo stesso livello della base della fresatrice ok quindi che cosa facciamo io normalmente mi appoggio su un pezzettino di alluminio perché facendo scendere la fresa se lo facessimo su un piano in legno come questo la fresa potrebbe incidere il legno e poi avremmo una misura sfalsata quindi ci posizioniamo su un pezzettino di alluminio facciamo scendere la fresa e poi con la levetta di blocco la fermiamo a questo punto sappiamo che questa parte del dente è perfettamente a filo con la base della fresatrice adesso dobbiamo impostare però lo spessore e dobbiamo capire quanto scenderà la fresa durante la fresatura in questo caso mi sono preso un pezzettino del pannello che utilizzerò per chiudere il mio contenitore dato che deve arrivare a filo io dovrò togliere questa altezza dai bordi della scatolina quindi che cosa faccio allento la vite per impostare l'altezza ok la faccio scendere un pochettino in modo da arrivare più o meno vicino al pezzo che dobbiamo impostare la faccio scendere un pochino finché non va a bloccarsi tra le due parti in questo caso io ho scelto la parte più bassa di questa corona eccolo qua quindi adesso sappiamo che la fresatrice non potrà scendere più di tanto e andremo a togliere esattamente quanto ci serve facciamo la prova del 9 adesso la faccio arrivare fino in fondo tutta quanta la corsa avvicino il pezzo e vedete che sono tutti e due lo stesso livello ok batteria ok 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 ecco qua a posto adesso adesso dobbiamo soltanto ripassarci gli angoletti naturalmente con uno scalpello in modo da renderli perfettamente squadrati anche se in effetti potremmo stondare pure gli angoli del pannello vabbè comunque puliamo bene gli angoli e poi facciamo il test del pannello però comunque penso che penso che già vada bene eccolo qua eccolo qua ok ok benissime miei ultime considerazioni sulla nostra fresa a gradino allora avete visto nel video che noi abbiamo creato questa battentatura per poterci poi alloggiare un pannello ok però questa fresa fa altre lavorazioni in altre occasioni ad esempio immaginate che questo sia la parte posteriore di un armadio e noi dobbiamo andare a creare il gradino per poterci poi alloggiare lo schienale ok questo è uno dei casi un altro caso potrebbe essere quello del restauro di una vecchia finestra in legno vogliamo mettere il doppio vetro andiamo a creare un nuovo gradino o comunque a crearne uno più profondo in modo da poterci alloggiare un nuovo vetro è una fresa veramente molto versatile poi oltretutto con il fatto che possiamo sostituire il coscinetto con uno di quelli in dotazione riusciamo anche poi ad avere un gradino più largo o un pochino più stretto veramente molto comoda ragazzi miei il progettino comunque me lo sono sistemato è venuto anche molto bene eccolo qua bello a filo l'ho anche verniciato di bianco così si vede di meno perché era brutto vedere la parte posteriore che che sbordava bello qua riesco tra l'altro anche a metterci quando devo lavorare qualche foglio magari con le misure avevo pensato e ve la dico al volo di diverniciarlo con quelle vernici che fanno effetto lavagna e poi magari uno qua poteva già scriverci che ne so con un gessetto con qualsiasi altra cosa le misure che stiamo tagliando in quel momento in modo da avercele sempre a portata di mano potrebbe essere un'idea molto carina comunque amici miei noi ci vediamo al prossimo video e un grande abbraccio iscrivetevi al nostro canale se non lo avete ancora fatto ciao i like i like e metteteci anche un bel like perché noi ci fa molto piacere e basta ciao ciao questo kit lo potete trovare sul nostro fantastico sito e commerce www.demicolab.shop non lo ricordavo ho dovuto leggere quindi